Come risponde l'Olimpico per l'Italia? Come risponde l'Olimpico per l'Italia? Come rispondere a questo nuovo gruppo del mondo, Mauro Magamasco! Buon pomeriggio a tutti, questo premio è la carriera grazie a voi che avete riempito gli stadi in questi 16 anni. Ora vi chiedo l'ultima cosa, quando esce l'Italia fate esplodere questo stadio, buon pomeriggio! Mauro Bergamasco, il turno numero 492. 5,9.